10.000 persone a sera al Pizza Village di Milano, la prima edizione, un grande successo, ma soprattutto un grande sostegno alla grande tradizione della pizza, all'arte del pizzaiolo napoletano, patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, e oggi l'avvio, anche lì, della campagna per realizzare un altro obiettivo, la cucina italiana, patrimonio mondiale dell'umanità. Grazie al riconoscimento UNESCO per la pizza, la pizza napoletana ha avuto un vero e proprio boom nel mondo e finalmente la cultura artigianale del pizzaiolo napoletano ha avuto un grande riconoscimento. Con la battaglia e la vittoria che dovremo avere della cucina italiana a patrimonio UNESCO dobbiamo rilanciare la tutela del Made in Italy, la grande tradizione agroalimentare italiana, un sostegno agli agricoltori che fanno prodotti di vera qualità, a chi li trasforma ai cuochi, alle persone che hanno una grande tradizione nella cucina, ma soprattutto è un riconoscimento a una cucina, quella italiana, ed è questo il motivo della candidatura che è stata avanzata dalla Commissione italiana UNESCO e sostenuta da tutti, dal governo e dalle opposizioni, ma soprattutto dai cittadini italiani. La cucina italiana candidata per la sostenibilità, perché noi riutilizziamo nella vera tradizione italiana moltissimo, e non facciamo spreco di cibo nella tradizione italiana, e poi la biodiversità culturale, le grandi tradizioni che la cucina italiana con le varie cucine regionali rappresenta. Quindi complimenti a Milano per l'accoglienza che ha dato al Pizza Village, che per la prima volta è andato a Milano dalla sua caratteristica presenza napoletana. Complimenti agli organizzatori del Pizza Village, ma soprattutto facciamo in modo adesso di vincere, dopo Pizza UNESCO, la battaglia cucina italiana UNESCO.